Sono quasi sei mesi che me le guardo queste diapositive. Me le guardo, me le riguardo, me le riguardo e sicuramente l'impianto generale, il microcentrale è totalmente condivisibile, però volendo essere concreti, per uno come me che lavora all'università e in un grande ospedale, vedo una, diciamo, non dico due problemi ma due aspetti su cui riflettere, che sono uno di merito, perché i contenuti sicuramente oggettivi delle necessità di salute della popolazione sono cambiati rispetto agli anni 70. Non parlo di bisogni indotti costruiti dalla pubblicità sanitaria, assolutamente. e dall'altra anche di possibilità di organizzazione metodologica di una cosa di questo genere per le grandissime strutture in cui questa proporzione ideale...